Ciao a tutti amici di youtube qui il vostro Nickar insieme a franz8231 non so se si vede ecco ore 4 e 23 del mattino ore 4 e 23 del mattino l'avete richiesto a grande voce e ora lo faremo per voi mi avete rotto gli animali giocheremo a slender quindi bando alle cianci e andiamo subito al gioco le vostre mete sono delle porche bene siamo nel menu principale del gioco andiamo subito su start game c'è un po' di luce perché se no non si vedrebbe una minchia della nostra azione però la situazione è già drammatica di suo il gioco in sé è semplice si basa sul mito di slenderman se non lo sapete sotto nella descrizione del video avrete il link della creepypasta e cazzi vari ci sono otto fogli in questo bosco posso parlare? ci sono otto fogli in questo bosco e bisogna raccoglierli evitando di farsi inculare con lo shifter porca troia con lo shifter sinistro del mouse si può correre quello che il tutto abbassa la visuale il tutto abbassa diciamo la torcia quindi non mi sembra il caso abbiamo il primo foglio abbiamo preso la prima pagina sta musica non mi sta piacendo per niente la persona se ne basi bene basta dove cazzo? in quel cambio c'è stato madre a trombare la devi farli guardare guarda guarda zoccolina puttana la situazione è già alquanto drammatica quindi il dedo c'è tua sorella la c'è stata quella come la tua non puoi correre questo dici tu un pezzo di merda posso correre si guarda posso tanto però come gioco che pesa pochissimo è una bella grafica eh sì oddio oddio lo slender man lo slender man lo slender man e quel tizio si alto alto col vestito tutto elegante senza faccia no ma si chiama spaventone lo slender man lo slender man ma la metto no stasera no 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 spazio se c'è un'idea di un'amera su domenica si è molto dino m si poteva anche mettere in posto montaggio vedi quando dici le cazze ci sei griglie anche nel gioco non era una cazzata ma c'era i montaggi video non li fa mai infatti perchè non facciamo il mio vabbè non sai fare un cazzo x come x quanto dico io vabbè vaffanculo la rima di fai fuori file la rosa la perché cacchio che me acudio oddio quando c'è quella di effetto disturbato sullo schermo vuol dire che lo slender mani vicino tipo manda mi culo la prima di nuovo c'è un senso la zicca spagna l'ho fatto apposta l'ho fatto apposta l'ho fatto apposta la bricchia che la di tua sorella ecco mica sta avanti a pelle di colline e ora sta andando a farsi una canna dove tutti non ci vanno perchè lui è un pinguish dai cacchio l'ho fatto attento non mi muovere la mano coglioni dietro 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 guardati dietro ma si sa mai c'è dietro un gerry allora mi cacchio raccontaci un po' di te cosa fai nel tempo libero un cazzo guarda cosa stai facendo mi sto cagando sotto giocando a slender domani cosa farai un cazzo di la verità un cazzo di la verità caricherò i video che devo fare di la verità cosa ho ordinato da internet pezzo di merda ah ho ordinato la ps3 si dillo cazzo devi dire cazzo l'ho già detto in un video precedente non misciare questa è anche remixata da devo solo alberi non so dove devo che è sto x file struzzo è per i dati più pinge dai ma tutto il cazzo malissima spengi tutto ma solo si c'è più paura al mondo quando io ho capito una cosa visto che ci sta giocando tu perché ci ho dovuto far giocare se io ho più infatti video dove questo tipo io ho te fuori cosa cazzo devi fare fatti sono un pochino ad essere riusciti nell'impresa di prendere gli otto fogli gli otto fogli non ho ancora visto nessun video di youtube ancora che vedete che succede anzi si ho visto uno prendeva gli otto fogli e moriva quindi un bel finale di merda si potete leggere il finale siete destinati a crepare in questo gioco però avevo avuto la soddisfazione di crepare prendendo gli otto fogli come è rimato mamma mia diciamo la secco tolotte si mai forse col tasto testo si spinge la torcia e che tasse che con i fallo oggi con il mostro nero perché bassi anche una corrisposta non vorremmo che succede che senti 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 è il rumore dell'inculata questo chio e la tremiamo tutti e due no fasi c'è la ghiaggia oddio il poster dei One Direction oddio che sorella che c'ha mamma mia meno male che una bimba minchia ancora c'ha 12 anni povero franzo facciamo le condaglianze a franzo che si deve beccare i poster dei One Direction in camera è peggio di giocare a Slender non me lo dico io ma mio oddio cosa c'è cosa cosa fa ma questo gioco non viene mai non viene mai gioco ma quello se fosse di giorno eh sai che sembra una cappella è un tubo non ci voglio si può smettere quali video? no dove entrare porca p***a damo odio cam campi ah con con Q ed E si può zoomare per osservare più in lontananza in lon dell'etananza chi era quel genio? l'avevo anche trovato il suo commento su youtube questo genio che ha scritto in lon dell'etananza vuole intendere in lontananza scrivi in lon dell'etananza come uno che mi scrive le ragazze oh porca oh porca c'è il disturbo c'è il disturbo c'è il disturbo perchè ci vai? eh non è che posso tornare indietro eh perchè non puoi tornare indietro? eh non c'è niente dietro aspetto che va via a po' smegli la torcia c'è il cazzo come due volte 3 4 tutti voi che mi odio ah 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 lo slender man lo slender man corre 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 ah 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 no 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 ci ha ammazzato vaffanculo questo è stato per ora il mio punteggio vaffanculo 2 su 8 e ora puzzo pezzo di merda culo va bene? che schifo bene per ora questo è tutto eventualmente vi aggiornerò sui miei nuovi highscore provate anche voi a raccogliere le 8 pagine il link del download del gioco è sempre in descrizione qua sotto qui 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 sotto qui sotto dove c'è la mia fama dove non c'è la sua fama cliccate lì dove troverete tutte le informazioni riguardo al gioco tutti i link per scaricare vedete se riuscire a raccogliere le 8 pagine quindi questo è tutto una cosa lui ha dimenticato un gran particolare che nell'ultimo foglio c'è scritto il numero della sorella non gli udite perchè sennò si offende il numero della sorella di Franz e l'indirizzo di dove compra i posti quindi questo è tutto e che la fiesta mamma e che la puttana mamma e Franz non gli udite non gli udite